Crutch Mindset. Benvenuti cari amici del canale Dampat Rugby. Abbiamo parlato tutta la settimana di formazione dell'Italia, dell'Italia, di Crowley, del tipo di gioco dell'Italia, eccetera, eccetera. Oggi parliamo di Galles. Perché? Perché è la settimana ovviamente di Italia-Galles. E allora, ancora prima che parlare di formazione, perché quello lo faremo domani, quando usciranno le due formazioni d'Italia e Galles, faremo il classico video con l'analisi della formazione dell'Italia e poi o già domani nello stesso video o venerdì faremo anche la preview con il testa-testa. Insomma, di contenuti ragazzi ce n'è veramente un botto. Ma proviamo a capire a livello di tipo di gioco e qualche statistica che tipo di Galles ci troveremo di fronte. Allora, intanto io vi avviso, vi avviso, come l'anno scorso, ed è rimasta nella testa in tanti quella frase, andiamo a rovinargli la festa. Sono stato, diciamo, bravo nell'indovinare ogni tanto quelle che erano le potenziali di quel gruppo così sbarazzino, no? L'anno scorso a fine sei nazioni, quando siamo andati a vincere nel giorno della festa, non ce lo dimentichiamo, dei 150 cap di Halloween Jones e 100 cap di Dan Bigger. A proposito, molto probabilmente ci saranno anche quest'anno. Beh, quest'anno invece faccio l'opposto. Calma, calma. Intanto il Galles che ci troveremo di fronte è un Galles, secondo me, di cui diffidare. Perché sento un po' troppo entusiasmo, un po' troppo dio. L'entusiasmo fa bene. Ma diciamo che non vorrei che prendessimo questa partita alla leggera. I ragazzi sicuramente no. Ma anche noi nel giudizio, no? E allora, tiriamoci un bel bicchiere di acqua gelida in faccia prima che arrivi la famosa doccia gelata, no? Prendiamo le cose con calma. Dimentichiamo per un secondo i problemi della WRU, no? Della WRU, la union gallese, i soldi, i problemi di stipendi, il cambio di allenatore, le chiacchiere da pub se fossimo in Galles, no? O da bar in Italia. Dimentichiamoci di questa cosa. Dimentichiamoci che adesso tutti dicono che c'è un Galles allo sbando, un Galles che non ha la via. Perché? C'è il Galles. C'è il Galles. E allora troveremo un Galles che è decimo del mondo. Qualcuno dirà, decimo del mondo. Beh, ok, sono tre posizioni sopra l'Italia nel world ranking, no? Quindi un Galles che è tre posizioni sopra di noi. Un Galles che non secoli, ragazzi, non secoli fa. Ma tre anni fa, per chi se lo fosse dimenticato, è andato a tanto così, a tanto così, a un calcio di Henry Pollard, da essere finalista del mondo al posto degli Springbox. Al posto degli Springbox. Il Galles è andato a tanto così da battere i campioni del mondo in semifinale e riscrivere la storia che sarebbe stata per forza di cose diverse. Tre anni fa, non parliamo di secoli fa, tra l'altro con una bella, un bel nucleo di giocatori che saranno in campo anche sabato. Un Galles, giusto per fare un altro così, a Marcord, che di nuovo due anni fa, non secoli, ha vinto il Sei Nazioni. E anche qui ci sarà chi dirà, sì, vabbè, ma coi cartellini rossi, un culo stratosferico che nemmeno quello dello show track e delle Olimpiadi che li caddero tutti davanti, insomma, eccetera, eccetera, eccetera. E lo dico anch'io ogni tanto, scherzare. Bene, per chi dicesse questa cosa, io dico, intanto hanno vinto il Sei Nazioni. Intanto hanno vinto il Sei Nazioni. Cosa abbastanza lontana dalle nostre possibilità? E poi ricordiamo che due anni prima, di nuovo nel 2019, aveva fatto il grande slam. 2019! Adesso siamo nel 2023. È passato qualche anno, ma non sono passati vent'anni. E comunque è ancora la stessa generazione. Quella generazione che sa come arrivare in semifinale a un mondiale, sa come vincere un grande slam a Sei Nazioni e anche vincere quando tutto sembra complicato. E allora, anche per chi dicesse, sì, vabbè, ma parliamo dell'anteguerra, non è così, però allora ricordiamo che questa squadra ha vinto in Sudafrica a luglio. A luglio ha vinto in Sudafrica. Quasi ne pareggiava un'altra, ok? Due su tre. Una l'ha vinta, una quasi la pareggiava e una l'ha persa. Sì, ma quel Sudafrica... Ok, poi a novembre ha battuto anche l'Argentina. Ah, dite... Sì, Danilo, però ti dimentichi che ha perso con la Georgia? Beh, anche noi. Anche noi abbiamo perso con la Georgia. Quindi, insomma, mettiamo un po' le cose al suo posto. Non stiamo andando a giocare con la Romania e il Portogallo, detto che non è stato facile battere nemmeno il Portogallo. Ok, quindi mettiamo un po' le cose al suo posto. Va bene l'entusiasmo. Spero di non avervi rovinato la giornata, ma vorrei tirare un po' il freno a mano, ecco. Detto tutto questo, come giustamente previsto in conferenza stampa la settimana scorsa da Capitano Lamaro alla domanda come vi sentite da favoriti, lui ha detto beh, non credo che saremo favoriti. I bookmaker ci daranno sfavoriti molto probabilmente e ci ha visto giusto. Bravo, Mitch. Potresti andare a fare i bookmaker. Difatti siamo sfavoriti. Non di molto, un punto di handicap. L'Italia si gioca a due, il Galles si gioca a 1.75, ma giocando in casa siamo comunque sfavoriti. Di poco, ma siamo comunque sfavoriti. Poi ognuno può avere la sua lettura della partita. Anch'io credo che l'Italia abbia tanti punti dove se la possa giocare e forse questa valutazione è data più sullo storico che sull'attuale. Però, prima di bearci delle disgrazie altrui, delle disgrazie del Galles e di raccontare di quanto questa partita sarà facile, io ci andrei molto, molto cauto. Bene, fatta questa premessa per inquadrare l'avversario che andremo ad affrontare, ma anche con questa consapevolezza, possiamo provare a pensare che cosa è il Galles. Sì, ragioniamoci anche con un bel entusiasmo. Non ce lo nascondiamo, tra l'altro l'entusiasmo è un bel motore nello sport. E quindi, ok, siamo felici di quest'Italia, che non ha ancora riuscito a vincere una partita a sei nazioni, ma che ci sta emozionando. E quindi lasciamoci trascinare da questo entusiasmo. Però, non ci dimentichiamo di tutto quello che abbiamo appena detto. Allora, proviamo allora a capire, dal punto di vista del gioco, che Galles troveremo. La prima cosa che viene in mente è che troveremo il Galles di Gatland, che è molto diverso dal Galles di Pivac, o quantomeno è in un processo per diventare diverso. Gatland, anche lui, negli anni, avrà cambiato la sua maniera di vedere il rugby, però sicuramente è un rugby più centrato sulla difesa, è un rugby che in attacco si prende meno rischi. È un rugby war and ball, no? Un rugby molto fisico davanti, in maniera da stancare e da appunto, in qualche maniera, consumare le difese avversarie. Pensate, un Galles che con Gatland non segnava molto, ma concedeva molto poco. In settimana Squidge ha sottolineato una statistica di come con Pivac quasi il 30% delle partite furono partite ad alto punteggio, ossia entrambe le squadre con più di 24 punti sul tabellino. Pensate che con Gatland, che allenò il triplo, se non più, delle partite di Pivac, avvenne solamente il 6% delle volte. Con Pivac il 30% delle partite, una su tre furono partite ad alto punteggio di entrambe le squadre. Con Gatland solamente il 6% delle volte. Allora questo ci fa capire anche che tipo di gioco vuole costruire Gatland, come vuole arrivare al mondiale Gatland. Il problema è che è un processo in corso, no? Ed è un processo complicatissimo per Gatland. È in mezzo a una palude reale di ostacoli, ha pochissimo tempo perché deve costruire col mondiale, ma il mondiale è dopo domani. Non c'è tempo per fare un cambio generazionale, non c'è proprio il tempo fisico per un rinnovamento con giocatori giovani, quindi dare proprio un colpo di spugna, no? Come fece Kieran Crowley e far ripartire. Kieran Crowley è anche prima lanciato dai giovani che Franco Smith aveva messo in squadra. Però non c'è tempo. Gatland non può fare questo e quindi si è deciso di ripartire dall'usato di fiducia, no? Con i senatori, con Halloween Jones, con Josh Adams, con Dan Biggar, con Liz Halfpenny. Insomma, non è semplice, non è semplice perché sono tutti signori che hanno tanto rugby nella testa e questo sicuramente è la forza potenziale di questo Galles. Questa cosa viene un po' mitigata dai problemi extracampo, dove magari questa gente qui non riesce a concentrarsi 100% su quello che sta succedendo in campo, anche perché si sentono un po' in dovere di lasciare un lascito alle nuove generazioni, sia dal punto di vista sportivo, ma anche dal punto di vista extrasportivo, perché tutte le battaglie che stanno facendo questi signori le stanno facendo relativamente non per loro. Cioè, un Halloween Jones, ovviamente, quando parla dei nuovi contratti del Galles, non pensa a se stesso, ma pensa a chi arriverà dopo di lui, la stessa cosa di Cassie Peralt e Penny, eccetera. Quindi sono una squadra, tra virgolette, di vecchietti, pericolosi, che hanno l'esperienza. Da questo punto di vista è l'esatto opposto dell'Italia. Pensate che il Galles ha un'età media di 31 anni, l'Italia di 26. Quindi avremo la gioventù contro l'esperienza, con tutti i pro e i contro che porta la gioventù e tutti i contro, ma anche i pro, che porta ovviamente l'esperienza, il saper gestire una partita magari complicata, il saper leggere il momentum della partita, individuare magari tatticamente delle cose che la gioventù, proprio per una mancanza di esperienza, fa più fatica a individuare e mettere in pratica, leggere magari il game plan che viene proposto dall'allenatore, da un allenatore come Gatland, che questi giocatori conoscono come le loro tasche. E allora dove Gatland potrebbe provare a metterci in difficoltà? Beh, per esempio sul gioco al piede, no? Il gioco al piede che io definisco il grande bilanciatore tra un attacco dritto per dritto e il portare la palla fuori. Il rugby è come una ricetta, no? Tu puoi decidere di passare fuori, di circunnavigare il muro difensivo, provando a stringere ovviamente la fisarmonica. Tu puoi decidere di sfondare, diciamo, alla negra, no? Con i ball carrier questo muro difensivo, oppure appunto per equilibrare questa ricetta tu puoi, ovviamente a questo muro ci puoi anche passare sopra, passare sotto con il chip kick, i grabber, eccetera, eccetera, però poi per equilibrare questa ricetta hai bisogno del sale. Hai bisogno del sale. E che cos'è il sale nel rugby? Il kicking game. Il gioco al piede. Hai bisogno delle spezie, hai bisogno delle cose che in qualche maniera ti equilibrano, ti danno un bilanciamento. Adesso io non sono un cuoco. Ditemi voi che cos'è che dà un bilanciamento a una ricetta. Bene, nel rugby secondo me è il gioco al piede. Il gioco al piede. E difatti l'Italia ha una ricetta che ogni tanto è un po' troppo piccante a volte e insipida altre proprio perché forse manca questo tipo di bilanciamento. E il Galles lo sa. Il Galles vuole avere un gioco bilanciato. Probabilmente è anche un'evoluzione del Warren Ball, del gioco gatlandiano e per esempio con l'Inghilterra ha calciato tanto, tantissimo. Alf Penny ha calciato tutto. E attenzione perché l'Inghilterra ha perso alcune battaglie al piede. Anche perché il Galles bilancia anche il tipo di calcio. Poi non sempre li vengono benissimo però insomma fanno dei calci lunghi quindi abbiamo visto tante volte le battaglie Alf Penny, Freddy Stewart eccetera eccetera però usano tantissimo anche gli up and under. Usano tantissimo gli up and under non solo dalla base. Fanno ad esempio delle bombe alte per andare a mettere in difficoltà le ali e con l'Italia potrebbero assolutamente, anzi lo faranno di sicuro, testare la nostra conquista aerea che spesso è abbastanza lacunosa. Uno. Due. Che con la mancanza di Capuozzo magari non verrà testato come hanno fatto tutte le squadre Capuozzo nella battaglia aerea però perde qualcosa in ripartenza. Quindi insomma ci saranno ci saranno delle chiavità tiche anche nel gioco al piede assolutamente. E poi la World. Ossia eh il cercare di andare vicino al raggruppamento a piegare la linea difensiva eh soprattutto nei ventidue il Galles proverà a testare la nostra difesa sia con pick and go sia con passaggi al primo pod che andranno a cercare di appunto piegare la nostra linea difensiva anche ripetutamente. E lì l'Italia come Treviso sa difendere molto bene nei ventidue. A parer mio è una delle cose che fa meglio ad esempio Treviso e quando parliamo degli avanti sono gli avanti del Benetton ma c'è un grosso ma c'è un grosso ma da quella situazione come si esce? Beh da quella situazione si esce con una penalità a favore che o ti può ti può regalare l'avversario magari con un ceiling off e occhio perché il Galles ne regala di penalità oppure devi andare a prendertela tu. Devi andare a prendertela tu fondamentalmente con il buon vecchio grillo talpa no? Con il fetching. E l'Italia non ha fatto tanti turnover. Dopo andiamo a vedere dei numeri. Nel breakdown e nel pescare il paglione l'Italia non è ancora il livello dove vorrebbe arrivare. Tra l'altro siamo senza un ottimo fetcher come Zuliani e come Lucchesi. Può essere che Zuliani se parte negri partirà dalla panchina. Negri sul punto di incontro è un po' meno performante di Zuliani anche se ogni tanto qualche palla se la porta a casa. Io sono abbastanza pronto a scommettere in un bel grillo talpa di Lorenzo Cannone. Una, due secondo me se le porta via. Però diciamo che l'Italia non ha un numero eccezionale di pescatori di pallone. Qualcosa fa sicuramente Fischetti. Ci prova anche Riccioni. Però ad esempio anche lì se partissimo con Ferrari perdiamo un po' da quel punto di vista. Vediamo, vediamo. Alla fine lì nei ventidue è importante il lavoro nel breakdown di mettere le mani perché è l'unica vera chiave per rovesciare quella situazione. Perché tutto il resto anche se c'è un avanti riparti con una mischia ma riparti profondo nel tuo campo quindi li vai a restituire molto spesso il pallone. Se c'è un tenuto alto drop out ma li restituisci il pallone. Se li porti fuori rimessa laterale ma sempre lì sono. L'unica maniera per uscire realmente da quando hai l'avversario nei ventidue è quello di andare a conquistarti un calcio di punizione o una transizione dove poi tu riparti. Però non è semplice. Non è semplice. Quindi questo un po' il disegno a parer mio del Galles. Se andiamo poi a fare una comparazione statistica troviamo che il Galles ha segnato tre mete concedendone dodici. Il Galles ha concesso tantissime mete. L'Italia meglio. Se ricordate l'Italia di l'ultima Italia di Franco Smith non segnava mai. Credo che avesse segnato una meta o due massimo in tutte e sei nazioni. Bene quest'anno dopo tre giornate ne ha già segnate cinque. Però attenzione perché sì siamo arrivati lì vicini a giocarcela con la Francia. Abbiamo spaventato l'Irlanda ma ne abbiamo concesse tredici di mete. Ne abbiamo segnate cinque concesse tredici. Il Galles ne ha segnate meno. Ne ha segnate tre. Ne ha concesse dodici. Poi il Galles è la squadra che ha fatto meno metri delle sei. Interessante questa cosa qui. Mentre l'Italia è la seconda dopo l'Irlanda. Anche dovuto al gioco dell'Italia in qualche maniera simile al gioco dell'Irlanda. Quanto meno simile nella collettività. Nel voler giocare molto alla mano e nel voler giocare con tutta la squadra. Italia e Irlanda per esempio sono anche le prime due per numero di passaggi. Stephen Varney è il giocatore che ha fatto più passaggi in assoluto di tutto il torneo. Poi c'è un numero che salta decisamente all'occhio. Il Galles è la squadra che ha rotto meno placaggi. Ma di gran lunga. Di gran lunga. Il Galles ha rotto solamente 46 placaggi. L'Italia pensate 83. 83. Cioè quando c'è un placaggio sbagliato dell'avversario c'è un placaggio rotto da parte dell'attaccante. Bene. L'Italia 83. Il Galles 46. Per dire la Francia 97. Insomma 46 contro 97 è quasi la metà. Quindi anzi è la metà. È un po' meno della metà. Insomma una squadra che fa fatica a battere l'avversario nell'uno contro uno. Fa fatica a creare situazioni dove poi sia complicato difenderli. Fa fatica a superare la difesa organizzata o magari anche a vincere l'uno contro uno in situazione di gioco rotto. Per esempio in quegli 83 l'Italia è riuscita spesso e volentieri a rompere la linea con le giocate dietro. La Francia molto spesso di quei 97. Tanti sono in situazione di gioco rotto dove si scatena il French Flair alla Galtier direi. E poi c'è il breakdown. Sul breakdown in compenso è capace di generare più turnover dell'Italia che pensate ultima con solo sette. Pochi. Pochi. L'abbiamo pagato con l'Irlanda. Ad esempio il breakdown come era logico anche immaginarsi. Invece il Galles si posiziona seconda a 15. A 15. Attenzione al breakdown. Attenzione al breakdown. Seconda a 15. Tra l'altro dietro a una inarrivabile da questo punto di vista l'Irlanda che è a 24. Cioè il Galles è seconda con 15. L'Irlanda è a 24. L'Irlanda è veramente una macchina da turnover sul breakdown. Qui c'è un però. C'è un però nella lettura di questa statistica. Mentre l'Irlanda non paga troppo l'aggressività nel breakdown in disciplina. Cioè qual è il downside, il contro di essere molto aggressivi nel breakdown? Ovviamente è la disciplina. Perché se tu provi a mettere le mani su ogni pallone ogni tanto qualche punizione te lo fischiano. E l'Irlanda a 24 non paga così tanto. Invece il Galles lo paga moltissimo. È di gran lunga la squadra più indisciplinata con 41 penalità. Tra l'altro moltissime di queste nel breakdown e non solo per tentativi di Grillo-Talpa ma anche molto spesso per un problema che ogni tanto aveva anche l'Italia e che ha sicuramente il Benetton. Ossia quello di restare intrappolati dall'altro lato del raggruppamento. E pensate che queste 41 penalità sono 10 in più di quelle che ha concesso l'Italia. Parliamo di tre partite. E quasi 20 in più di quelle che ha concesso l'Inghilterra che la squadra più disciplinata con 23 penalità concessa. Quindi insomma spero di avervi fatto una foto di una squadra da cui bisogna assolutamente di fidare. Assolutamente di fidare perché resta il Galles. Resta il Galles. Una squadra che in un processo di costruzione passando da un gioco molto running rugby, molto di corsa dove si cercava di utilizzare molto il triangolo di Wayne Pivark si è fatto un passo indietro per probabilmente restare un po' nel mezzo e cercare di trovare un equilibrio appunto con Gatland. Equilibrio che a parer mio si sta cercando di trovare anche e soprattutto con l'utilizzo del gioco al piede. Nonostante questo una squadra con tante vulnerabilità. È vulnerabile in difesa, non è molto incisiva in attacco. L'abbiamo visto nella statistica dei placaggi rotti. Insomma una squadra con cui si può giocare. Una squadra che l'Italia può mettere seriamente in difficoltà. Ecco a parer mio l'Italia deve portare, deve essere coraggiosa. A parer mio l'Italia deve non solo non snaturare il proprio gioco ma deve addirittura esaltarlo. Ossia contro una squadra che comunque nelle prime tre giornate ha preso 12 mete. Bene, l'Italia deve cercare una partita ad alto punteggio. Una partita dove magari ti prendi qualche rischio in difesa, in ripartenza, in transizione ma cercare una partita ad alto punteggio, andare per la meta, andare per qualche giocata anche ai risk, ai reward. Bisogna essere coraggiosi. Secondo me questa partita l'Italia la può vincere bene se esplora i propri limiti ed esplora fino a... se non ci facciamo venire il braccino, se non siamo timidi. Ecco secondo me questa partita se la mettiamo sul punto a punto, se la mettiamo sulla timidezza occhio perché il Galles ha l'esperienza per gestirla meglio dell'Italia. Se invece siamo attenti nelle contese aeree, attenti nella disciplina ma sfrontati nelle soluzioni di attacco, bene, allora secondo me l'Italia può veramente mandare in tilt il Galles di Gatland. Ditemi che cosa ne pensate ragazzi? Ditemelo nei commenti, per il resto manca qualche giorno alla grande sfida. domani, domani due live, una con Lorenzo del pomeriggio, quella solita alle due e mezza di pomeriggio sul rugby femminile. Ci saranno da commentare le convocazioni della nazionale femminile e poi la sera alle nove con Samuele di Top Ten Rugby per parlare del Top Ten e soprattutto di Petrarca Rovigo. Insomma c'è un mondo di rugby, c'è il Six Nation, c'è il Top Ten, c'è la nazionale femminile, c'è un mondo, c'è un mondo di rugby da conoscere ed esplorare. Un bacio, ci vediamo domani con i prossimi appuntamenti qua su Dampatragby. Ciao!